I pistoni non sono più 6 ma soltanto 4, in compenso c'è un bel turbo compressore che spinge con forza l'aria dentro i cilindri. Una vera rivoluzione per la Boxster e per la Porsche, ma andiamo subito a vedere come suona questo nuovo 4 cilindri. In effetti questo motore suona in modo parecchio strano, d'altra parte non può essere diversamente perché è un 4 cilindri Boxster. Il rumore ricorda un po' quello delle Porsche degli anni 60, della 356 e poi della 912, ma le somiglianze con i motori di quel periodo terminano veramente qua. Questo 4 cilindri è completamente nuovo ed è molto molto efficiente. Tira bene anche a parte del regime, ma si esprime meglio dai 3.000 a 4.000 giri in su. La progressione è notevole, veramente, superati i 4.000 c'è davvero un altro mondo. La potenza viene erogata a 6.500 giri minuto, ma in realtà la curva di potenza rimane molto piatta anche oltre questo regime e quindi lo si può sfruttare fino al limitatore che taglia però con discrezione a 7.500 giri. Questa curva di potenza piatta nella parte alta aiuta molto nella guida sportiva perché se ad esempio si cambia a 7.200 giri come sto facendo adesso ci si ritrova poi con il rapporto successivo con il motore ancora molto vicino alla potenza massima. Il cambio PTK a 7 marce poi lo seconda al meglio. Le cambiate sono rapide, puntuali, precise e non sbaglia un colpo mai neanche quando si cerca una marcia instaccata un po' al limite come in questo momento. Restano poi tutte le altre qualità intrinseche della Boxster, un telaio spettacolare, molto, molto ben bilanciato sui due assali che permette di affrontare curvoni veloci come questi con un assetto praticamente neutro. La macchina raggiunge praticamente contemporaneamente il limite in tenuta su tutte e quattro le ruote per cui se non la si sbilancia lei prende e comincia a sbandare su tutte e quattro le ruote quindi con il massimo dell'accelerazione laterale. Poi ovviamente diventa un gioco di equilibrio tra sotto e sovrasterzo perché la macchina ovviamente in queste condizioni diventa poi sensibile al tiro e rilascio del gas. La Boxster si inserisce rapidamente, qua diventa facile da controllare grazie allo sterzo che è rapido, preciso e anche molto progressivo ma è molto agile anche nel misto stretto qui in queste chicane. Non c'è sottosterzo, la macchina si inserisce rapidamente cambia direzione e cambia trasferimenti in carico con la massima facilità e poi ci sono i freni spettacolari, come sempre, come su tutte le Porsche. Innanzitutto il pedale ha una bella modulabilità a corsa breve, un bel carico e quindi permette di modulare al meglio la potenza frenante e poi sono potenti, molto potenti e instancabili. Alla fine è proprio il bilanciamento perfetto tra tutte le varie componenti a rendere speciale la Boxster. Motore, cambio, freni, sospensioni lavorano tutti al meglio e in modo, come dire, equilibrato fra di loro e le prestazioni sono così, veramente elevate per un'auto di questa categoria. È veramente un piacere condurre quest'automobile da una curva all'altra. Grazie a tutti.